nomine patris et fire spiritus sancti amen gesù ti amo con la tua volontà viene divina volontà pregare in me poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al padre la gloria che dovrebbero dare tutte le creature mia divina maria ti amo nella divina volontà regina immacolata celeste madre mia vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia perché detti coi sospiri più ardenti che tu mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà mamma santa tu che sei la regina di questo regno ammetti mio vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi perciò sovrana regina te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di dio e come vivere in essa ave maria grazia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus e benedictus fruttus ventis tu jesus santa maria mater dei ora pro novis peccatoribus nunc et in ora mortis nostre amen dal libro di cielo volume 35 30 gennaio 1938 per chi vive nel volere divino tutto ciò che fa acquista la natura divina suoi prodigi nel creare la vita divina nell'atto umano festa di tutto il cielo il vero ricambio della creazione la mia povera mente nuota nel mare del volere divino il suo mormorì è continuo ma che cosa mormora amore anime luce che vorrebbe investire che vorrebbe regnare in ciascuno dei figli suoi e do quali stratagemmi d'amore usa per farli rientrare nel seno della salute da dove uscirono e nel suo dolore dice figli miei figli miei fatemi regnare ed io vi darò tanta grazia da riconoscervi che siete i figli del vostro padre celeste ma mentre la mia mente si perdeva in questo mare divino il mio caro gesù la dolce mia vita ha rinnovato la sua breve visitina e tutto bontà mi ha detto figlia piccola del mio volere divino sono tante le ansie sospiri che la mia volontà vuole operare nell'atto della creatura che si mette a spiare per vedere se l'anima la chiama come atto primo degli atti suoi e chiamata si mette in festa corre soffiandovi imprime la sua forza creatrice e converte in natura divina l'atto della creatura sicché la creatura sente la natura dell'amore divino che la investe la circonda scorre come sangue nelle sue vene fin nelle midollo delle sue ossa nel palpito del suo cuore quindi tutto l'essere suo non dice altro che amore convertire in natura divina gli atti umani è il prodigio più grande che può fare la mia divina volontà essa non sa dare se non ciò che tiene amore possiede amore da ed oh come si sente felice che non vede non sente che amore ne può fare a meno d'amare col dare la mia volontà l'amore in natura alla creatura l'ha messa nell'ordine divina divino tutto è armonia tra dio e lei si può dire la gettata nel nostro stesso labirinto d'amore sì che se la creatura adora ringrazia benedice la benedice la sua forza creatrice corre per cambiare in natura divina l'adorazione i ringraziamenti le benedizioni in natura divina quindi la creatura tiene il suo potere come in natura sua di sempre adorare la maestà suprema ringraziarla e benedirla perché ciò che essa comunica in natura tiene l'atto continuato che mai cessa perciò la teniamo a nostra disposizione il nostro amore trova chi lo ama col suo amore e se sente il bisogno di sfogarsi tiene con chi fare i suoi sfoghi la nostra maestà trova le sue eterne adorazioni nella creatura che veramente può dirle un grazie un ti benedico divino insomma troviamo chi ci può dare del nostro e come l'amiamo questa più che celeste creatura ci tiene sempre in attività perché possiamo darle ciò che vogliamo ed il darne per noi è beatificarci felicitarci di più mentre chi non vive nel nostro volere ci tiene nell'ozio senza attività e se diamo qualche cosa tutto è misura perché non abbiamo dove metterle e temiamo che quel poco che diamo ne farà asciupo e non saprà apprezzarlo onde dopo con un'ansia più forte passo aggiunto figlia mia buona i prodigi che il mio fiat opera nell'atto della creatura che vive in esso sono inauditi come vede che essa sta per farlo corre e prende l'atto nelle sue mani lo purifica, lo plasma, lo investe di luce poi lo guarda per vedere se quell'atto può ricevere la sua santità la sua bellezza se può chiuderlo nella sua immensità se vi può far correre dentro la sua potenza e il suo amore quando tutto è affatto che nulla deve mancare come atto suo se lo bacia, se lo abbraccia e riversandosi tutto sopra di esso con una solennità d'amore indescrivibile vi pronuncia il suo fiat omnipotente e vi crea se stessi in quell'atto i cieli si mettono sull'attenti quando il mio volere sta per operare nell'atto della creatura si commuovono ne restano stupiti e rapiti ed esclamano possibile che un dio il suo volere tre volte santo giunge a tanto amore fino a creare se stesso nell'atto della creatura? lo stesso mio fiat ritorna a guardare ciò che ha fatto nell'atto umano si sente rapire si felicita nel vedere la sua novella vita e preso da gioia indescrivibile fa festa a tutto il cielo e largheggia nel versare grazie tutta la terra questi atti li chiamo vita mia atto mio eco della mia potenza prodigi del mio amore figlia mia rendimi contento sono queste le gioie della mia creazione le feste della mia virtù creatrice poter formare tante vime vite per quanti atti fa la creatura perciò chiamami sempre negli atti tuoi non mettermi mai da parte ed io farò sempre cose nuove in te da far stupire tutte le genti e da allora avrò il contraccambio la viola di tutta la creazione quando avrò riempito cieli e terra di tante mie vite novelle convertire in natura divina gli atti umani questa espressione da meditare davvero profondamente ha un po' il cuore il senso della riflessione che oggi fa Gesù sul tema della volontà divina come sempre sono ripresi alcuni argomenti e sono al tempo stesso trattati con quella singolarità tipica che fa di questo scritto un unicum perché come ben sappiamo Dio non si ripete mai e quindi quello che ha detto qui lo ha detto qui è contenuto nel 30 gennaio del 1938 non in altre date non in altri scritti questo dobbiamo sempre molto riflettere figlioli meccanico nel primo punto di meditazione sti 40 anni per 36 volumi ricordiamo anche che 36 è è un particolare particolare è un particolare del tutto singolare no? è la somma di 1 al cubo che fa 1 2 al cubo che fa 8 e 3 al cubo che fa 27 27 27 più 1 fa 28 28 più 8 fa 36 qualcuno ha notato questa cosa che certamente non è casuale quindi 36 volumi composti dal cubo di 1, 2, 3 e 40 anni che è il numero sacro dal 1998 no scusate dal 1898 al 2038 è bello ogni tanto cogliere qualcosa delle opere di Dio perché le opere di Dio sono dei caprovoli fino ai minimi dettagli ho detto anche recentemente nel nome lì chissà forse del 26 presumibilmente sì anche nell'ora santa di giovedì scorso quando si parlava del bue dell'asinello che Dio non fa niente ma proprio niente a caso ogni minimo dettaglio è curato purtroppo la nostra mente limitata ben poco in questa vita riesce a comprendere e quindi a godere di questa sapienza infinita nell'operare dell'Altissimo e speriamo di poterci sfogare un po' di più nell'altra ora che cosa mormora di continuo il volere divino questo è l'antefatto della meditazione di oggi è un mormorio l'immagine del mormorio è bellissimo per capire il mormorio dobbiamo immaginarci nella meditazione dobbiamo sempre ricorrere alla meditazione alla immaginazione come strumento ausiliare per farla bene il mormorio nella Bibbia si parla del mormorio dell'abbrezza delicata ecco che trasmise ad Elia il senso della divina presenza e della divina consolazione sul monte Oreb mormorio però è anche abbiamo visto qualche ruscello di montagna spettacoli bellissimi dove le acque scendono dolcemente e mormorano incessantemente è un mormorio incessante continua continuato questo mormorio continuato della divina volontà ripete anime e amore basta cerca e vuole anime come poli su cui riversare l'amore e da cui diceva nel contraccambio e ama e gongola e gode nel dare basta potremmo già mettere punto alla meditazione perché poi il resto è una focalizzazione diciamo così di queste due realtà amore e anime ora cos'è che farà la divina volontà se la facciamo regnare oh questo è proprio un tema tipico siamo nell'ottava di Natale probabilmente nell'ora santa di questa sera mi sta venendo in mente mi mormora anche a me mi frulla nella testa di godersi una bella meditazione e contemplazione del prologo del Vangelo di San Giovanni quello che si legge alla notte di Natale e che nella messa in rito antico delizia i cuori e le orecchie al termine di ogni santa messa che è un capolavoro immenso che culmina nell'affermazione a quanti però hanno accolto ha dato il potere attenzione di diventare figli di Dio ci potremmo invecchiare a ripetere su questa frase potere ce l'hanno quanti hanno accolto il verbo ce l'hanno quanti accolgono la divina volontà un potere un potere che è bello è grande che non possiamo darci da solo un potere trasformante cioè di diventare vuol dire che prima non lo eri sapete quanti equivoci si stanno in giro sull'espressione figlio di Dio no? e dobbiamo toglierli perché la chiarezza è sempre fondamentale nelle cose di fede gli esseri umani non battezzati non sono figli di Dio in senso proprio né tantomeno in senso stretto perché come tutti sappiamo un figlio è della stessa natura anzitutto dei genitori e peraltro gli assomiglia mi sembra che gli esseri umani non siano della stessa natura di Dio perché la nostra natura è quella umana e mi sembra peraltro che non è che somiglino tanto al loro creatore mi sembra che se volentieri somigliano a qualcun altro per quanto sono brutti anche esteriormente perché la bruttezza un po' di attenzione la bruttezza è figlia del peccato ci abbiamo mai pensato la bellezza è figlia della virtù di Dio è sommamente bello mica qualcuno di noi penserà che la Madonna fosse brutta o che Gesù fosse brutto anche esteriormente niente a che fare con la bellezza artefatta provocante sensuale che oggi va di moda quella non è bellezza quella è la caricatura della bellezza che porta il marchio di Satana quella non è divina quella è diabolica quella è infernale meglio ma la bellezza divina è tanta roba la somiglianza il parvedisio è la delizia di ogni bellezza l'ho detto tante volte andiamoci a deliziare in Italia grazie a Dio siamo pieni siamo di quelle meravigliose chiese costruite nel corso della storia la bellezza che in esse si contempla anzitutto è stata offerta all'altissimo perché all'altissimo si danno soltanto le cose migliori il fiorfiore dell'arte e del geno dell'uomo deve essere messo a servizio dell'altissimo questo è il motivo per cui i grandi pittori scultori architetti hanno lavorato anzitutto per l'altissimo e quanto costa non ce ne importa proprio niente quanto costa oppure costa un patrimonio indefinito tanto è sempre poco nei confronti dell'altissimo ma il senso di questo è anche trasmettere a chi sta lì fargli gustare in anteprima qualcosa della bellezza del cielo un anteprima è una highlight è un trailer ed è realmente così stare in comunione con Gesù andare a messa tutti i giorni dire a Rosario tutti i giorni è la cosa più bella che esiste è il segreto per avere una vita meravigliosa bellissima indimenticabile non è che uno sta lì col muso lungo col viso un pochetto torvo con un po' represso frustrato dice che brutta vita che mi è toccata l'ha messa tutti i giorni invece guarda quelli quanto si divertono beati loro che vita che fanno magnano bevono dormono fanno altre cose che non si possono dire da parte di un sacerdote eccetera eccetera hanno un sacco di sordi e beh ecco questo per introdurre quello che Gesù dice fatemi regnare io vi darò tanta grazia da riconoscervi che siete figli del vostro Padre Celeste ci riconosceremo il potere di diventare figli di Dio lo vedremo i figli di Dio vivono da grandissimi signori un figlio di Dio non è che non fa un peccato non è che non fa i peccati volontari perché peccato non mi posso fare i peccati volontari perché se no c'è pericolo se soppriare che me ne vado all'inferno se soppriare che me ne vado all'inferno purtroppo non si possono fare però che bello sarebbe se potessero fare questo è un discorso che ha animato dalla più assoluta idiozia un figlio di Dio non si abbassa a fare un peccato ma manco morto come i grandi signori i conti nobili non si abbassano a fare cose indegne del loro rango del loro blasone ma manco morti non lo fanno e i figli di Dio non lo fanno ma manco morti manco morti e se il diavolo viene gli sputano in faccia così se ne va come fece quel grande martire della Tebaide chi ha il martirologio del 52 vado a vedere il 28 luglio che bella storia l'ho raccontata un sacco di volte a un anonimo martire che prima di ammazzarlo l'avevano legato su un per terra su un tappeto di di fiori nudo e gli avevano mandato sopra una donnaccia incaricato di eccitarlo alla russura e di farlo peccare perché capite alcuni pazzi furiosi volevano prima di ammazzare i cristiani farli peccare guarda caso sempre su questo argomento ce ne stanno tanti di argomenti ma sempre su questo era l'oggetto e questo grande uomo a parte che se l'è fidata per niente ma volendo esprimere il suo sovrano disprezzo per questa cosa qui sovrano si è messo la lingua fra i denti ha trovato le forze per tagliarsela in due quindi per troncarsela di netto e ben condita di sangue gliela ha sputata in faccia qualcuno non ci crede vado a vedere il 28 luglio del martirologio del 52 ecco come vive un figlio di dio capite cioè non ho capito bene l'ultima sillaba cioè tu vorresti farmi fare un peccato di lussuria a me l'ultima sillaba non l'ho capita bene quelli che pensano che eh però la comunione sono stato costretto sono stato costretto di cosa questo è stato costretto questo qui era stato legato mani e piedi no nudo c'è una c'è una nuda sopra che fa non è stato costretto e gli ha sputato la lingua maciullata in faccia ecco i figli di dio andiamo a contemplare chi è un figlio di dio questo è un figlio di dio non ci si abbassa a certe cose non si perde la propria dignità non si infanga la propria anima non si perde l'amicizia con dio perché cosa cioè Esau è stato un saggio qua altro che un piatto di per andarci a mettere nelle mani di Satana di quello lì di uno che ci odia infinitamente di uno che ci torturerà di uno che ci trasformerà in mostri che ci porterà al degrado allo squallore alla monnezza io che sono figlio di dio comprato dal sangue di cristo io che ho fatto la comunione tante volte io ho ogni giorno il divino agnello dentro di me dentro lui in me e io in lui con un'anima bellissima che purtroppo fino a quando siamo in questa terra disgraziatissimamente neanche possiamo conoscerla bene non sappiamo neanche come ci chiamiamo veramente perché il nome nuovo lo sapremo nell'altro mondo non abbiamo la più pari d'idea di quanto siamo belli e io vado a consegnare questo a svendere questo a perdere questo come ci siamo ridotti figlioli miei cari in questi tempi di morta fede e di impietà trionfante scriveva il beato Bartolo Longo nella supplica alla Madonna di Pompei che tristezza che vergogna che schifo riconoscere che siete figli del vostro padre celeste e oltre a questo convertire in natura divina gli atti umani questo è il prodigio dei prodigi questo è il è la rivelazione peculiare di questi di questi scritti una delle caratteristiche cosa fa la divina volontà da che cosa ciò che possiede cioè l'amore tante volte ci siamo detti che la divina volontà è la sorgente il motore dell'amore divino e quindi la divina volontà si sente felice quando non vede non sente che è amore e non può fare a meno d'amare e getta chi l'accoglie nello stesso labirinto d'amore quando lo leggevo c'è una canzone un po' feriale non molto adatta diciamo così però l'espressione era era fammi entrare nel tuo labirinto è una canzone di Raff inevitabile follia che narra appunto una storia di un amore umano un pochino un pochino folle appunto tra le righe ma c'è un passaggio che dice fammi entrare nel tuo labirinto voglio perdermi dentro di te cioè bellissima che si immagino sappiamo che il labirinto generalmente viene usato in questi scritti per designare la nostra volontà umana cioè se tu ti metti a fare come te pare ti perdi dentro il nulla ti intorti se non sai più come uscire dal labirinto della tua umana volontà invece è bello perdersi in quello della volontà divina cioè che tu ci entri e non trovi la via d'uscita che bello così ti fai l'overdose continua di amore di bellezza di gioia di pace di purezza di santità e non sai neanche come uscire ma sai che bello il dare per noi è beatificarci e felicitarci di più tutte queste cose sono a disposizione io quando ci penso mi sta tornando in mente adesso una espressione anche questo l'ho detto altre volte quando l'arresti io rimasi sconvolto rimasi non dovrei andare a prenderla in libreria me la ricordo a memoria ma non posso dare la citazione precisa perché io ho letto le opere di sant'omaso d'aquino la somma teologia l'ho letta tutta io ho letto anche la somma contra gentiles a suo tempo nella somma contra gentiles a un certo punto sant'omaso d'aquino è stato sempre è proprio il suo stile caratteristico è sempre molto compassato sobrio puntuale preciso rigoroso essenziale cioè non è uno non è come a me ogni tanto fa le battute le cose no assolutamente oppure fa le imbettive mantiene sempre una inglesissima o meglio divina inglesissimo o meglio divino self control solo che gli scappa sta cosa la somma è un'altra contra gentile a un certo punto stava dicendo quando parlava delle meraviglie della dignità di un figlio di Dio di un anima in grazia dice si vergognino quindi quelli non ricordo ma questo è il senso si vergognino quindi questa è l'espressione quelli che dinanzi a cose così belle le disprezzano per andare ad avvoltolarsi nella monnezza allora non mi ricordo né la citazione né il punto preciso l'opera sul nome tra gentiles intanto è vero che lì l'editore fa una nota dice che è incredibile questa è una delle rarissime volte in cui San Tommaso gli è scappata sta cosa non è riuscito a trattenersi lui che era sempre un grande un grande controllore delle sue reazioni talmente era talmente grande lo sdegno quindi pensando a chi perdendosi queste cose va a autocondannarsi ad una vita vomitevole schifosa che gli è scappata meno male che gli è scappata ha fatto bene ha fatto perché il fatto in sé è degno e di un disprezzo assoluto il fatto in sé la persona certamente poi è destinataria della compassione e della misericordia perché è anche vero che il diavolo molti li inganna quindi non è che fanno queste cose a occhi aperti chiude dicendo possibile che un dio mette in bocca ai cieli che contemplano statici se un dio giunge a tanto amore fino a creare se stesso nell'atto della creatura quante ne fate queste robe qui ne vogliamo contare qualcuna numero uno ha creato se stesso nella santissima umanità creata appunto nel grembo di maria è unita ipostaticamente a sé dalla persona divina del verbo prima e poi tutti i giorni Gesù crea se stesso sugli altari per mezzo del ministero dei sacerdoti tutti i giorni senza lasciare se stesso crea tanti altri se stessi abbiamo visto l'ambitazione di ieri e poi e poi crea tanti se stessi negli atti delle creature che operano nella divina volontà è abbastanza no ce n'è abbastanza per convenire con l'esortazione contenuta in ogni prefazio della santa messa veramente cosa buona è giusta rendere grazie sempre in ogni luogo penso proprio di sì e come dice la buona Luisa ci fermiamo e mettiamo punto punto grazie Signore Gesù per quello che anche oggi ci doni attraverso le meraviglie di questo scritto che ci ricorda la nostra condizione la nostra dignità i figli di Dio e quindi quello che chiediamo Signore Gesù di donarsi la grazia di poter vivere tutto questo ce l'abbiamo già si tratta semplicemente di viverlo e di stare lontano da tutto ciò che ci mortifica e che ci toglie tanta bellezza e tanta dignità nella divina volontà in nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo ti benedico per aiutarti ti benedico per difenderti ti benedico per perdonarti ti benedico per liberarti da ogni male ti benedico per consolarti ti benedico per farti santo ti benedico dunque nella divina volontà in nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Fiat Ave Maria e del Figlio e del Figlio e del Figlio